in cui sono fissate le immagini. Che cos'è la cascia? Commento. La cascia è un termine sanscrito del jainismo che indica lo spazio in cui sono fissate le immagini di tutto ciò che avviene, è avvenuto e avverrà. Per alcune guide immateriali, la cascia è l'atmosfera, dei piani acassici dei cosmi, che corrisponde all'eterno presente. Ciò che è organizzato ed improntato si chiama idea. L'idea è ciò che rende oggettiva una manifestazione cosmica come la cascia.